ragazzi finalmente torno di giorno che è una vita che continuava ad andare di notte invece così siamo tornati di giorno sono più abituato a questa luce cos'è quella palla gialla nel cielo no è il sole ti sei bruciato come i rampieri ti sono bruciacchiato ragazzi ci siamo domani vado a ritirare il ram tutto wrappato adesso magari vi faccio mandare qualche immagine così lo vediamo mentre chiacchieriamo con Tommaso ciao Tommaso non ti ho ancora salutato ciao Romano come stai? bene tutto a posto hai una luce diversa di giorno una luce diversa perché no la verità è che sono arrivato così perché avevo due impegni stamattina e ho fatto un po' al volo a sistemare lo studio e non è proprio perfetto perfetto però dai va bene stiamo un po' così allora oggi parliamo di magazzino come abbiamo visto che è spesso sottovalutato ma in questo momento più che mai i ragazzi vi sta bloccando del capitale il famoso cash l'avete immobilizzato in magazzino e vediamo un po' che cosa ci si può fare perché in questo momento più che mai è importante avere disponibilità economica per fare un certo tipo di operazioni dal marketing a pagare delle cose fare un investimento futuro magari con la massima cautela visto il periodo perché non si sa adesso sempre che stiamo per uscirne non diciamo niente però magari bisogna essere pronti a qualsiasi situazione futura che non sia prevista Tommaso quindi intanto salutiamo Elga ciao Luana di Cerro ragazzi scrivete vi abbiamo sorpreso con questa diretta però dai chiacchieriamo un po' di questo magazzino un po' distrattato che tra l'altro se però non hai un gestionale voglio fare un magazzino è difficile a quanto difficile anche perché sai cos'è il problema del magazzino il problema fondamentale che è una di quelle sezioni dell'attività di un salone da conciatura piuttosto che di un centro estetico in cui è facile fare errori inconsapevolmente involontariamente e ti trovi a fare degli errori nella gestione delle scorte nei riordini nelle giacenze di magazzino e via di seguito come posso dirti è un e ogni errore come sempre nella gestione di un'attività produce un costo per quell'attività cioè ogni cosa all'interno di un'attività produce un costo ok gli errori sono costi aggiuntivi che tu metti e che potresti benissimo evitare a quelli che sono già i costi necessari per poter svolgere la tua attività il magazzino ha un costo necessario un salone da conciatura un titolare di un salone sa perfettamente che se non acquista merce non eroga servizi perché i prodotti gli servono per erogare servizi o gli servono per rivendere prodotti ai clienti quindi ci sono due nette distinzioni già in un magazzino ciò che è rivendita e ciò che è uso salone finalizzato all'erogazione di servizi ai clienti ecco ti interrompo un attimo perché mi hai pervisto che mi hai lanciato una cosa hai detto una cosa molto importante che a molti non è nota nel senso che tu hai detto magazzino voi comprate questi prodotti questa merce per poi rivenderli e quindi immarginare ecco nel magazzino vostro ipoteticamente virtualmente è una brutta parola però la merce sono anche i vostri clienti perché i clienti di fatto li dovete comprare i clienti costano i clienti costano non è per dare un termine distributivo ai clienti ci mancherebbe però dovete pensare che i clienti sono come dei prodotti veri e propri che entrano e devono essere rivenduti da un'altra parte per poter comprare uno shampoo dovete metterci dei soldi e poi dovete rivenderlo successivamente a un cliente diciamo ipotetico per quanto riguarda un cliente per poterlo acquisire dovete fare un investimento dovete comprarlo quindi dovete mettere lì un budget che sia il vostro tempo il piano marketing mettere la pubblicità su facebook volantini quello che volete il ragazzo che li butta dentro adesso non entriamo nel discorso delle strategie però i clienti di fatto costano a questo proposito stiamo Tommaso mi ha lanciato diciamo l'idea anzi l'idea ha deciso lui di fare questa cosa e organizzerà un corso per farvi rientrare ragazzi i clienti che già avete quindi aumentare la frequenza dei clienti in salone e verrà fatto attraverso i social e altre strategie cioè ci sarà la possibilità di fare vedere ai clienti i vostri contenuti ma solo a quei clienti quindi sta mettendo appunto questo corso che prossimamente sarà super ruccherando adesso vediamo un po' quindi questa piccola cosa qua interessante per far aumentare la frequenza dei clienti in salone scusami se ti ho interrotto perché dopo me la dimenticavo così hai fatto un po' sicuro ti hai fatto niente allora ti dicevo quindi il magazzino è un costo fondamentalmente è un costo il magazzino è un costo necessario per lo svolgimento dell'attività tu compri merce che ti serve per poter erogare servizi o per rivenderla ai tuoi clienti tra l'acquisto l'erogazione dei servizi o la rivendita ai clienti ci passa però di mezzo un film intero uno sceneggiato acquistare è facile ok acquistare è facile ci vuole niente a fare un ordine di merce che sia l'acquisto corretto che siano le giacenze che siano le quantità corrette al tuo fabbisogno o che siano le quantità corrette alla tua rivendita è tutta un'altra questione però ovviamente come sempre ti dico per poter evitare di fare errori e gestire al meglio anche questo aspetto della tua attività hai sempre bisogno di un supporto di uno strumento che ti dia la possibilità di non commettere errori e di ottimizzare il tuo risultato d'impresa un software gestionale ovviamente per poter fare questo nel periodo che abbiamo appena passato cioè quello del lockdown che ci siamo grazie a Dio lasciati alle spalle però tutti quanti i nostri amici ricorderanno che nel periodo del lockdown arrivavano le riba da pagare c'era la merce ferma in magazzino e qualcuno ha iniziato magari ha iniziato ad accendergli il campanello la luce in testa che gli ha fatto capire che forse di merce in magazzino ne aveva un pochino tanta e che magari e che magari una parte di quella merce poteva non esserci e in automatico sarebbero stati un po' più di soldini sul conto corrente disponibili in liquidità allora come sempre quando parliamo io ti dico ti parlo di equilibri di gestione no? ti ricordi te l'ho detto più di una volta la gestione ottimale di un salone a concertura o di un centro estetico è una questione di equilibri perfetto di equilibri tra tanti aspetti un magazzino troppo carico mi fa venire meno l'equilibrio della disponibilità dei soldi adesso poi stiamo arrivando a fine anno scusami stiamo arrivando a chiusura di bilanci piuttosto che di dichiarazioni dei redditi quindi a pagare tasse e i nostri amici in questo momento cosa succede? ricevono la sorpresa arriva la mitica telefonata piuttosto che la mail del commercialista che gli dice quanto devono pagare di tasse o di IVA c'è già di IVA oggi è già arrivata ecco adesso è tardi su fare qualsiasi operazione sull'IVA perché siamo al primo quindi è andata allora cosa succede? succede che lo sanno anche i sassi il magazzino concorre al reddito perfetto allora qua ci sarebbe da fare un distingo tra ragionamento per cassa piuttosto che contabilità ordinaria o semplificata vabbè fa niente riduciamo in minimi termini la questione ma i nostri amici sanno che se hanno 50.000 euro di merce in magazzino o 20.000 euro di merce in magazzino le tasse da pagare sono praticamente sempre quelle la differenza però è che se hai 30.000 euro di merce in meno in magazzino vuol dire che hai 30.000 euro in più di soldi sul conto corrente che se hai 30.000 euro di soldi in più sul conto corrente adesso io ho detto dei numeri grandi chi se ne frega tanto per fare un esempio vuol dire che hai meno difficoltà a pagare le tasse allora primo effetto immediato Tommaso hai meno difficoltà se non le hai presi dal cassetto in un altro modo perché questi magari 30.000 no però 10.000 è facile prendere qua e là e poi ti rendi conto che hai 10.000 euro in meno sul magazzino nel magazzino e 10.000 euro non ci sono sul conto corrente perché state usando una contabilità diciamo creativa e non avendo per esempio Allegra e non avendo per esempio un SRL perché magari molti siete detti individuali questa cosa vi è virgolette consentita in maniera ancora più semplice perché se un SRL una cosa così non è consentita a meno che non fate delle cose che non sono diciamo a termini di legge legalissime però non voglio entrare nella menata di questa cosa qua e quindi magari vi trovate proprio perché siete una dita individuale siete abituati a gestire tutta una serie di cose in una maniera creativa diciamola così non vi trovate questi soldi e quindi diventate andate in grosse difficoltà su questo sono pienamente la debolezza tipica di molte persone allora io parto dal presupposto che nel mio esempio diciamo che hai 10.000 euro in meno di magazzino e ti trovi 10.000 euro di disponibilità in più di soldi sul conto dell'attività è ovvio che se poi dopo quei 10.000 che ti sei trovato in più tu dici oh che figata ho x soldi sul conto adesso mi cambio la macchina e uso i soldi del conto del negozio per dare la conto della macchina nuova c'è un problema c'è un problema di fondo che si chiama cattiva gestione ma cattiva gestione della persona che gestisce i fondi siccome gli schiaffi li diamo anche di giorno qua farucirando anche sì certo il problema ragazzi è che voi arriva la cliente avete fatto la vostra spiegazione tutto quanto quella che dice dai ok prendo anche il kit shampoo e treatment 35 euro glielo date non fate lo scontrino prendete i 35 euro e ve li mettete in tasca un giorno due tre quattro e alla fine dell'anno sono 10.000 euro e siete nella merda questo è il concetto attenzione a fare queste cose glielo ha buttata lì così non vi mando la finanza non c'entra niente ognuno fa le cose che vuole ma anche senza fare ma anche senza fare questo tipo di magheggio basta soltanto che tu c'hai i tuoi soldi sul conto corrente perché hai comprato meno prodotti di quelli che avresti ordinato e che ti erano inutili ok e tu cosa fai e tu sai essendo molti ditte individuali il conto corrente del negozio lo usano un po' come se fosse loro errore di gestione numero uno in assoluto ok però tanti lo fanno devo comprare il televisore nuovo per casa 3.000 euro di televisore aspetta che striscio la carta di credito del negozio e di quei 10.000 in più tre sono partiti poi fai a fare una vacanza strisci ancora la carta ne partono altri 2.000 e alla fine quei 10.000 sono finiti indipendentemente da come li hai spesi allora questo è un errore di gestione madornale ma questo è proprio l'errore numero uno che può commettere nella gestione della sua attività un piccolo imprenditore usare i soldi dell'attività come se fossero le sue tasche questo è un errore peggiore di tutto facciamo finta che tu hai ottimizzato i tuoi acquisti hai comprato bene hai comprato bene e quindi hai più liquidità perché hai meno merce ferma cioè il primo il primo effetto di un'attiva gestione del magazzino è evidente è quella che ti sottrae liquidità perché tu anziché avere soldi disponibili hai merce ferma sullo scaffale e questa è la primissima grossa difficoltà in cui ti porta un magazzino un magazzino gestito male senza la più grave tra tutte quante senza tener conto poi senza tener conto poi che ci sono altri effetti di una cattiva gestione del magazzino cattiva gestione non vuol dire necessariamente comprare troppo anche se di base ti posso dire che per esperienza fatto mille il numero dei saloni che conosco ti dico che novecento sessanta hanno molto ma molto ma molto più magazzino di quello che dovrebbero avere fermo in quel momento non vuol dire quindi cattiva gestione comprare necessariamente troppo ma vuol dire spesso comprare male allora ecco scusa per esempio comprare male Giuseppe Romito ciao Giuseppe no intanto prima dici appunto soprattutto è un costo quando a novembre le aziende ti vengono i canvas e a novembre cominciate a entrare nel turbine dell'anticipo tasse di tutta la serie di cose IVA che arriverà perché novembre dicembre sono due periodi di merda dal punto di vista fiscale anche se quest'anno probabilmente sarà qualcosa di diverso si aggancia e dice la tv va fatturata al salone allora si va fatturata al salone se la mette in salone si però sappiamo che non la mettete in salone la mettete in un'altra parte e va bene il problema ragazzi che voi cosa fate l'IVA la recuperate subito e la vostra tv di 1000 euro ve la scaricate in cinque anni quindi si va in detrazione ma impatta sul salone 200 euro all'anno alias neanche un caffè al giorno quindi è tutta da vedere e a voi vi mancano quei 1000 euro oppure se la tv se vi eravate allargati 2000 euro quindi ok l'ho scaricata ma alla voce cassa mancano quei 2000 euro perché sono immobilizzati lì la tv non si può vendere quindi dovete fare attenzione da fare quei conti perché adesso che siamo entrati a luglio primo luglio voi oggi dovete essere pronti a capire quanto andrete a pagare di tasse l'anno prossimo se le pagherete spero di sì perché vuol dire che avete guadagnato ma è adesso che potete fare qualcosa col vostro commercialista col vostro magazzino perché avete sei mesi davanti e potete intervenire se aspettate novembre siete fottuti perché non avete margine non avete margine quindi dovete già pensare adesso se volete comprare la battesta se volete fare degli investimenti particolari volete fare delle campagne di marketing volete aumentare delle cose in salone è adesso che ci dovete pensare non potete aspettare aspettiamo novembre magari ci arriva il bonus bebè scappato dai parrucchieri che ci danno 2000 euro non funziona così ecco attenzione a fare queste cose qua guarda mi prometto di rispondere al nostro amico questo è proprio un un errore molto comune di gestione dell'attività perché se tu compri il tv per metterlo in salone perché vuoi far girare delle immagini vai compri un tv lo metti in salone ti fai fare la fattura il tuo commercialista se lo acquisti te lo porta in un piano di ammortamento di cinque anni quindi vuol dire che oggi l'hai pagato mille te lo scarica 200 euro all'anno per cinque anni ok quindi non pensare di aver speso mille euro e portare in detrazione fiscale mille euro quest'anno perché ce ne porti solo 200 forse c'è quest'anno forse mi sembra che c'è qualcosa in più però va bene ci sono iper ammortamenti 6% mi sembra su un investimento di una robetta ci sarà qualcosa ma comunque di base la regola del gioco di fondo è questa e quello è un conto ma se tu compri il tv e lo fai fatturare al negozio e lo paghi con i soldi del negozio ma in realtà l'hai comprato per casa stai facendo un errore di gestione mostruoso in cui non ti posso minimamente dare ragione perché sono diametralmente dall'altra parte nella mia visione nel mio pensiero di gestione aziendale tu se vuoi il televisore figo da 2000 euro da mettere a casa vai e col tuo conto corrente personale quello dove il negozio ti paga lo stipendio tutti i mesi se hai 2000 euro ti compri il televisore non puoi addebitarlo sul conto del negozio perché oggi gli addebiti il televisore dovrei domani la rata della macchina poi il mutuo di casa poi quest'altro e poi ci si chiede ma il commercialista mi ha detto che ho 50.000 euro di utile ma io non li ho questi soldi dove sono questi soldi e allora sono sul magazzino perché il tuo televisore ipoteticamente è andato nel magazzino finito lì e il problema è che non lo puoi vendere qualsiasi cosa che mettete nel magazzino ragazzi deve farvi fare un guadagno se voi mettete uno shampoo nel magazzino e l'avete comprato 10 quello shampoo lì deve essere venduto in base al vostro piano di marketing che comprende l'affitto del salone la persona che lo deve vendere i 2 euro che devo dare a facebook piuttosto che un'altra roba so che quello shampoo lì mi è costato ho comprato a 10 di fatto lo sto pagando 14 lo devo vendere almeno a 16 in modo tale che posso rientrare delle spese la televisione che avete fatto io capisco l'operazione che comunque tanto la dovevo comprare quindi mi infilo lì dentro è dovete pensarla che è lì bloccata sullo scaffale del magazzino ogni giorno vale soldi in meno se decidete di venderla non vi danno niente perché di fatto non è non è una merce vendibile e alla fine dell'anno una volta la televisione una volta come ha detto Tommaso la rata della macchina una volta lo shampoo che non avete venduto o che avete utilizzato voi stessi per un altro motivo o regalato a qualcuno senza un gestionale questi soldi qua alla fine dell'anno cavolo devo pagare 20.000 euro di tasse sull'utile bla 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 ma no non ce li ho non ce li ho 20.000 dove sono finiti sono nel virgolette magazzino che di fatto non le contiene ma sono lì e con un srl siete obbligati a dimostrare quindi vi forza così con una snc di te individuale o quell'altra questa roba qua è facile fare questo errore quindi stiamo cercando di sensibilizzarvi e Tommaso attraverso il suo software gestionale vi sta dicendo attenzione a quello che dovete fare speriamo di essere ma al di là di questo aspetto che è tra gli errori il più grave da commettere comunque Giuseppe dice che ha uno srl e lui l'aveva fatto come provocazione ciao Giuseppe certo certo ma l'avevo capito Giuseppe cioè infatti ho preso il tuo commento a pretesto perché mi hai servito e ti ringrazio di questo un bellissimo assist per far capire a tutti quanti dove sta l'errore no perché non tutti hanno un srl come l'hai come l'hai tu in tante dite individuali in tante piccole snc sotto i 400 mila euro di volume d'affari quindi sotto la soglia dell'obbligatorietà della contabilità ordinaria in contabilità quindi semplificata tanti fanno questo tipo di errore ok ma al di là di questo aspetta che c'è Giovanni Giovanni perché io gli ho fatto allora Giovanni l'esempio dei prodotti in magazzino non rende se lo compro a 10 deve essere venduto almeno il doppio allora Giovanni premesso che io ho fatto un esempio buttando lì dei numeri a caso no magari neanche il doppio va bene magari devi venderlo a quattro volte però lì stiamo entrando in un campo di determinare il prezzo e tu non puoi dire che lo devo vendere semplicemente al doppio perché ti hanno detto così devi fare un calcolo dei costi che hai per acquistare quella merce guardare il posizionamento del tuo salone a quanto può vendere quel prodotto e alla fine determini il prezzo non è che dici io lo compro ma hanno detto di venderlo al doppio e mi sta bene perché magari potresti rivenderlo al quadruplo e guadagnarci quattro volte quindi come io ti ho detto ma no era per spiegare che io ho detto 10-16 euro ho fatto degli esempi così attenzione con i soldi perché adesso arrivavo alla domanda che voglio fare a Tommaso detto che la maggior parte dei prodotti che ci sono sul mercato hanno un prezzo di listino consigliato al pubblico e molto spesso il pubblico conosce quel prezzo di listino consigliato quindi se vai oltre non è così facile ok andare oltre il prezzo di listino consigliato detto che per esperienza ti dico perché il mio software gestionale lo fa in tempo reale il calcolo del margine di guadagno su ogni singolo prodotto che ha il salone quindi quando tu lo compri a 10 più IVA e lo vendi a 20 IVATO non stai guadagnando il doppio come credi ma stai guadagnando ben meno del doppio perché c'è l'IVA di mezzo ok che da una parte devi aggiungere dall'altra devi sottrarre perché molto spesso si comprano prodotti tu hai il 50 di sconto sul listino sì sul listino IVATO 50 di sconto più l'IVA da aggiungere quindi non è il 50 ma stiamo parlando del 32-33% di sconto e per esperienza e per esperienza ti dico che sono pochissimi ma pochissimi quasi nessuno i saloni che vedo avere una marginalità pari al 50% cioè al doppio della rivendita dei prodotti rispetto al prezzo d'acquisto quindi però al di là dei numeri adesso che sono relativi noi stiamo parlando di non nei concetti specifici di casi specifici ma di un concetto di gestione ti faccio un altro esempio prima che vai avanti se hai un gestionale facciamo un esempio è arrivata una cliente ragazzi quindi è entrata questa cliente la vostra cliente sapete che con il gestionale deve perlomeno marginare deve spendere nel vostro salone tot soldi e devono essere marginati in serviti di X facciamo un esempio per farla semplice viene a fare un trattamento e deve spendere 100 euro faccio un esempio quindi lei ha fatto taglio colore e piega e con quei prodotti lei deve spendere 100 euro in questo modo il salone ha guadagnato il giusto perché è posizionato in un certo modo a dei costi di un certo tipo all'affitto i dipendenti quello che vuoi in quel momento voi andate a fare l'operazione cross selling quindi cosa vuol dire prendete il vostro shampoo e dite alla cliente in quel momento è un one to one quindi non è da nessuna parte one to one voi alla cliente grazie visto che tu in questo momento hai effettuato questi servizi hai la possibilità di avere questo shampoo del valore di 20 euro a 12 euro faccio un esempio ragazzi faccio un esempio cosa vuol dire voi sapete che lo shampoo l'avete pagato 10 euro e lo state vendendo a 12 a 12 euro è impossibile vendere lo shampoo come offerta diretta sui social piuttosto che su whatsapp fine a se stante perché impatterebbe sul salone in maniera negativa in questo caso qua state facendo un cross selling quindi cosa vuol dire avete già guadagnato i 100 euro che volevate dalla cliente tutto quello che prendete è in più non va più in costo percentuale ma va in costo vero e proprio quindi state guadagnando 2 euro 3 euro 4 euro tutte le volte in più in questo caso qua lo potete fare se vendete lo shampoo a 12 euro con il messaggio sconto vi suicidate così lo potete fare però il gestionale ne deve tenere conto di questa cosa qua e incrociare i dati in un certo modo adesso non andiamo qui nel discorso della gente quindi per quello che è importante avere il gestionale perché sapere che avete venduto lo shampoo a 12 euro marginandolo come cross selling sul servizio di 100 è un conto se avete venduto 112 euro di shampoo così a cazzo è un suicidio dal punto di vista di marketing e in più vi siete sputtanati il salone perché dicono guarda quelli là che stanno proprio buttando via la roba virgolette questo è in più fate percepire meno la qualità del salone non potete fare più una fish alta perché svendete la roba eccetera 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 questo è per fare un esempio scusami no no condivido io non sono un amante delle svendite anzi tutt'altro capito perché svendere un prodotto che hai è come svendere te stesso per me capito è all'occhio del tuo cliente quindi non mi piace come cosa se poi la svendita è dettata dalla necessità di ridurre un magazzino perché hai acquistato troppo è meglio se stringi i denti un po' contrai gli acquisti riduci gli acquisti per smaltire nel tempo il tuo magazzino e abbassarlo e quindi mi ripiego a quello che dicevi prima siamo a giugno sia in tempo ancora per fare questa operazione ovvio che se pensi di farla a novembre è diventa molto molto anzi oggi siamo il primo di luglio se pensi di farla se pensi di farla a novembre diventa molto molto più complicato da fare anche perché voi dovreste sapere il vostro break even point cioè il punto in cui il salone ha coperto tutte le spese dell'anno possibilmente dovrebbe essere luglio e quindi voi da adesso in avanti cominciate a guadagnare se a settembre non è male ottobre novembre sono cazzi dicembre è malissimo perché siete arrivati a piatti e quindi se a ottobre raggiungete il vostro punto di pareggio qualsiasi cosa vendete qualsiasi servizio state marginando da un punto di vista di guadagno e poi però vi arriva un raffreddore vi arriva il covid 24 vi arriva l'incidente con la macchina ritornate nella merda per quello che non avete un cazzo di piano aziendale e cui non sapete dove andare e quindi se entra il gestionale siete fottuti siamo qua a vendere il gestionale sì non è proprio così però vi stiamo spiegando perché con un gestionale è una cosa meglio ancora sarebbe un CRM però adesso non voglio esagerare con voi anche se anche se anche se di fatto anche se di fatto è un CRM ok perché vi dà tutta una serie di è anche un CRM ok meglio ancora appunto perché se no ragazzi non sapete cosa fare dove andate non sapete se state guadagnando o se state perdendo perché voi pensate di stare guadagnando invece facciamo un esempio devi venderlo almeno al doppio fate una campagna facebook di uno shampoo a 20 euro che magari su amazon viene venduto a 22 come ha detto per esempio Tiziano quindi quello lì è il vostro parametro ok vado in campagna a 20 euro lo shampoo l'ho pagato 10 euro però per fare quella campagna ho dovuto ne so ne vendo 10 ho dice ok ho guadagnato 100 euro tutti contenti no non hai guadagnato 100 euro perché per fare quella campagna hai chiamato la tua dipendente e gli hai detto mettiti lì studia cosa devi scrivere su facebook quello che vuoi mettilo giù in qualche modo e fai questa roba qua quella dipendente ci ha messo un'ora del suo tempo quell'ora del suo tempo che sono 15 euro 20 euro all'ora l'orde quello che vuoi lo dovete sottrarre dai 100 euro che avete guadagnato dello shampoo è finita no perché poi dovete metterci i soldi della campagna su facebook quanto è costata 30 euro 20 euro facciamo 30 a quel punto lì il vostro shampoo vi ha fatto marginare 50 euro ok a quel punto lì arriva la cliente date lo shampoo siccome voi pensate di guadagnare 100 euro gli fate uno sconto di qualcosa che andate addirittura in perdita perché io non so boh fate qualcosa oppure gli date il sacchetto oppure gli date un gadget il gadget l'avete comprato a 10 euro magari a 5 sto esagerando e quindi il vostro ricavo diventa 40 cosa vuol dire tutto questo che voi state pensando di guadagnare 100 perché avete fatto una vostra bella offerta e sta andando al prezzo del doppio e invece state guadagnando semplicemente il 40% su quella cosa lì e dopo non ci sono i soldi perché cavolo ho guadagnato il doppio no non hai guadagnato il doppio hai guadagnato il 40% non il 100% e allora cambiano le cose quando questi conti che stai facendo tu a volte invece non si fanno e non hai neanche il 40 e sei in perdita del 10 alla fine sì perché qua è un partito sul doppio perché magari addirittura i ragazzi dicono eri già partito basso parto lo shampoo da 20 euro parto con 15 e però non l'ho ottenuta dopo ti dicono anche vado oltre perché voi mi dite no ma io sono io il grafico io sono da sola in salone io ho quell'ora lì che ci ho messo non ci ho speso niente quindi non è un costo e questo è un altro esatto questo è un altro errore perché la vostra ora deve essere conteggiata ma non perché costa da un punto di vista che i soldi in quel momento li escono perché teoricamente quel lavoro lì se volete crescere dovrete mettere lì qualcuno l'anno prossimo a farlo al posto vostro e dovete prevedere di dare il compenso giusto a questa persona che si occuperà di questa offerta quindi già subito voi dovete dire mi ci metto ci ho messo due ore devo dare un valore al mio tempo poi dopo ok è un valore virgolette virtuale ti è andata bene quest'anno qui però se alla fine ti metti lì a fare solo offerte chi li taglia i capelli chi guarda i conti quindi se volete crescere dice ok faccio 100 offerte all'anno guadagno 25.000 euro sto dando dei numeri a caso posso permettermi una persona che pago 20.000 la metto a fare questo e io guadagnerò 5.000 euro senza neanche entrare in salone non è vero perché farete altro e guadagnerete molto di più così fate impresa e fate un passo avanti nella vostra scala di fatica se no siete sempre lì inchiodati tanto ho fatto questo ho fatto quell'altro alla fine dell'anno siete fottuti oppure siete lì e poi dopo arriva il covid vi prendete il palo in faccia questo gestionale magazzino adesso siamo usciti un po' ritorniamo dentro a bomba all'argomento sì poi altri altri fattori sai a volte come ti dicevo prima non è che per forza tu l'errore di gestione è determinato dall'acquistare troppo è determinato dall'acquistare male se tu stai avendo la capacità di verificare l'anno scorso in questo mese quanto ho lavorato perché sai bene o male i lavori l'andamento è abbastanza ciclico tu puoi prevedere una crescita attuare una strategia di crescita però parti sempre da una base di uno storico dell'anno precedente dello stesso mese dell'anno precedente e sulla base di quello costruisci delle iniziative e un obiettivo da raggiungere per la tua crescita perfetto quanto merci dovrò comprare cioè parametrizzati non è che tutti i mesi sono Natale ci sono mesi in cui gli acquisti devono aumentare ci sono mesi in cui gli acquisti di merce devono diminuire non puoi fare un acquisto costante mese per mese sempre pari sempre uguale o comprare perché è arrivato il canvas è un'occasione devo comprarlo perché è un'occasione perché se è quell'occasione ti rimane in casa sei mesi che cazzo di occasione è? non è un'occasione è stato un problema no? dovete pensare che qualsiasi cosa comprate qualsiasi cosa entra deve ipoteticamente dovrebbe essere al 100% però perlomeno al 90% perché purtroppo ci sono delle cose non siamo perfetti l'azienda non è perfetta si creano degli errori deve uscire in un determinato lasso di tempo e a un prezzo di un certo tipo perché se il prezzo rimane ok però mi esce fra un anno voi avete bloccato il vostro il vostro cash per un anno e per un anno non potete fare un'altra operazione quindi se vi siete messi il televisore sullo scaffale voi per i prossimi cinque anni avete 3000 euro bloccati in salone se di televisore ne comprate uno ogni sei mesi per i prossimi cinque anni alla voce 30.000 sono 30.000 che rimangono lì sono 30.000 che vi mancano per fare delle operazioni a questo punto qua ti faccio la domanda allora Tommaso ha senso quindi mettiamo che loro hanno bello c'è stato lockdown non hanno fatto delle operazioni di vendita del magazzino ce l'hanno lì bello cicciotto diciamo pieno all'80% quindi merce per 20.000 euro faccio una dicono cifra facciamo 10.000 che è più semplice che è più magari più veritiera 10.000 euro di merce ferma in magazzino che potrebbe futtare secondo i vostri calcoli 20.000 euro però sono i calcoli virtuali perché io ho non ci credo ma diciamo che potrebbe no perché stiamo facendo la politica del raddoppio no ok mettiamo che le raddoppiamo perché nessuno raddoppia mettiamo che raddoppiamo ok quindi uno nella sua testa è quello allora quanto senso ha vendere questo magazzino entro i prossimi due mesi a 15.000 quindi sconto 50 con delle strategie di marketing che non vuol dire domani andare a mettere sconto 50 sconto 25 sconto 25 sul prezzo del prodotto vuol dire spingere in una cosa come vi ho fatto vedere prima con il cross selling o altre cose quanto senso ha dire ok io in due mesi rientro subito di 15.000 euro invece che i miei ipotetici 20.000 da qua a dicembre come potrebbe poi se conviene farlo non conviene il gestionale come potrebbe aiutare allora allora ti spiego ti spiego ciò che il problema è duplice da una parte c'è un'opportunità perché innegabilmente in economia aziendale tutti quanti sanno che convertire merce già in casa in soldi è un'operazione sana ti faccio un esempio che esce dal mondo dei saloni da conciatura così i nostri amici capiscono meglio tutte le volte che vai in un concessionario per comprare un'auto chissà come mai quella che è pronta a consegna che magari non è del colore che volevi tu ma ti piace lo stesso che magari ha in più un optional che però te lo super scontano hai strappi un prezzo molto più vantaggioso perché è pronta a consegna è molto semplice perché il concessionario non te la deve ordinare non deve pagare un ulteriore auto alla casa madre che la produce e ne prende una che ha già lì nel piazzale già pagata te la consegna e la trasforma nei soldi che tu te la pagherai o di tasca tua o con un finanziamento o con un leasing e quindi lui converte merce ferma in danaro fresco da utilizzare quindi se da una parte in economia aziendale la conversione di beni in feri di merce ferma lì sullo scaffale nel magazzino è un'ottima operazione dall'altra parte dall'altra parte in un'attività come quella di un salone da conciatura o di un centro estetico a me non piace personalmente perché mentre da una parte stiamo vendendo un'automobile il cui posizionamento sia del brand che del modello e via di seguito è già determinato sul mercato dalla pubblicità dalla comunicazione dal marketing e da una serie di cose il salone da conciatura il professionista parrucchiere o il professionista estetista che svende il prodotto agli occhi del suo cliente a me non piace perché il prodotto in quel momento è parte integrante dell'attività che lui svolge è molto meglio è per quello che io ti ho detto prima non svendere il prodotto ma è molto meglio fare delle combo ok è molto meglio attivarsi perché poi vedi cos'è la questione Romano io ti posso dire la posso chiamare sconto la posso chiamare promozione la posso chiamare opportunità alla fine è la stessa cosa solo che te la faccio percepire in tre modi completamente diversi se io ti do il prodotto sconto 25% è uno sconto è una svendita è uno sbaccare è un buttare giù ok a me non piace il concetto sconto proprio non mi piace se io te lo presento in una combo dove c'è una serie di servizi trattamenti e il prodotto ad un prezzo pacchetto alleggerisco il mio magazzino perché quella confezione o quelle confezioni di prodotto le faccio fuori ma non faccio percepire al mio cliente che sto svendendo da qualche parte sto confezionando un'offerta completa dove vado a limare 2 euro al prodotto 2 euro al servizio alla fine ho raggiunto lo stesso obiettivo ma con una percezione agli occhi del cliente completamente diversa ma per poterlo fare devo conoscere i costi della mia attività devo conoscere quanto margino sui servizi quanto margino sui prodotti il software te lo dice in tempo reale e puoi confezionare l'offerta giusta perché se no il rischio è fare l'offerta lo traduco per i ragazzi quindi fondamentalmente voi oggi state vendendo taglio a 20 euro ok dite alla vostra clientela se compri il taglio a 20 più lo shampoo altre 20 costerebbe 40 no questo qua è la percezione mettete fuori in un listino taglio e shampoo a 38 euro così avete scontato lo shampoo di quella percentuale non parlate di sconto è un'offerta combo quindi avete venduto il taglio e poi avete fatto un upselling vendendogli lo shampoo prima cosa con quello invece che vi ho fatto vedere vi ho spiegato prima che è cross selling dovete però sapere quanto il cliente deve spendere per essere arrivato al punto di break living quindi nel vostro caso un cliente quando entra dentro avete deciso che quando spende 70 euro è adatto a fare un altro tipo di offerta ha speso 70 euro avete già preso i soldi lui ha già chiuso il portafoglio è pronto per andare via quindi avete finito fondamentalmente in quel momento scatta l'operazione cross selling ciao guarda visto che te oggi sei stato qua sei una cliente premium hai fatto questo servizio eccetera eccetera posso darti non parlare mai di sconto non parlare mai di gratis non parlare mai di offerta posso darti questo shampoo del valore di 20 euro a 18 però ti do questo prezzo perché tu hai speso già questo questo è deve essere chiaro e così vendete automaticamente l'altro shampoo sempre nel servito in più se voi andate invece sconto 20% come fanno la maggior parte dei parrucchieri purtroppo che vedo su facebook o sommato sconto qua sconto là non andate da nessuna parte o le newsletter che arrivano o le mail che arrivano oltretutto sono due operazioni ben distinte ragazzi due operazioni ben distinte poi oltretutto inneschi anche un meccanismo quando inizi a darci giù con gli sconti che molta gente inizia a pensare chissà quanto ci guadagnavi allora prima capito che non è vero è che adesso ti stai massacrando da solo ma stai facendo percepire un qualcosa di completamente anche diverso che non va mai mai bene cioè non sono assolutamente d'accordo in ogni caso quando vuoi fare una combinazione di servizi e prodotti ok anche che ne so taglio piega trattamento e il prodotto cioè non è che deve essere per forza un servizio o un prodotto se sei bravo e hai la clientela e ti sei costruito la clientela giusta su cui poter lavorare bene tu puoi anche fare questa operazione di mettere il prodotto in abbinamento a una serie di servizi che fa diventare magari agli occhi del tuo cliente ancora più appetibile ancora fa venire ancora più voglia di andare ad acquistare questo 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 pacchetto che gli hai che gli hai preparato e poi la capacità sai qual è ulteriormente romano e che te la dà soltanto il software è quella di conoscere bene le abitudini di spesa di ogni singolo cliente perché non puoi fare un pacchetto offerta che vale per tutti perché c'è la cliente che lo shampoo te lo compra sempre ma raramente ti compra il conditioner c'è la cliente che non ti fa il trattamento ma ti compra il prodotto e allora la combo la puoi andare a realizzare diversa cliente per cliente sulla base delle sue abitudini d'acquisto come non offrendogli quello che già abitualmente compra ma offrendole l'opportunità di avere questa soluzione pacchetto inserendo quel tipo di prodotto o quel tipo di trattamento che lei abitualmente non fa me la faccio ancora più semplice andate nel vostro gestionale mi fai sentire complicato sì perché sei troppo tecnico allora bisogna andare proprio più io la capisco però non vorrei che qualcuno si perdesse queste informazioni che sono molto importanti senza un gestionale voi non potete entrare dentro e guardare quanti clienti hanno comprato perché se c'è una domanda c'è una affermazione di Antonia che la vado a leggere quanti clienti hanno comprato stiamo parlando sempre di shampoo oppure di conditioner quanti clienti hanno comprato conditioner in fase di upselling piuttosto che di cross selling come abbiamo detto prima il gestionale vi tira fuori i dati e vi dice tu hai avuto 500 clienti che sono passati all'interno del salone e soltanto 100 di questi hanno comprato il conditioner di questi 100 che hanno comprato il conditioner 30 l'hanno comprato in cross selling e 70 l'hanno comprato in upselling quando vi arriva il fornitore che vi dice vi vendo questo voi sapete già dal gestionale che l'anno prossimo ne venderete 100 in quel modo e sapete già che potete andare a lavorare sulla signora Giovanna che ha delle caratteristiche simili alla signora Lucia che normalmente compra il conditioner e mentre la signora che avete preso in esame prima non lo fa abitualmente quindi fate un conto su quello e dite ok io statisticamente posso portare la mia vendita al 30% in più semplicemente proponendo nello stesso modo che sto facendo con l'altra cliente la stessa cosa a Giovanna Maria Anna quello che è in questo modo ho una previsione di poter vendere x prodotti non è che dico spero che venga fuori che riesca a venderli no perché se voi avete 100 clienti con certe caratteristiche con certe frequente in salone che fanno certi trattamenti che spendono regolarmente per comprarti lo shampoo e hai altri 400 probabilmente tra questi 400 altri 100 avranno caratteristiche simili e su queste 100 persone potete fare una serie di strategie Tommaso vedo che hai le mosche ho una mosche che non riesco a eliminarla senza un gestionale questa cosa non la potete fare l'altra cosa che diceva Antonia diceva molti anni fa un'azienda ho letto mi aveva riallestito il negozio per cui vincolata all'acquisto ho sproporzionato la sua merce poi è entrata la finanza e mi ha fatto il culo io lo posso leggere culo ok e mi conteggiò quanti grammi di prodotto che serviva ad ogni cliente insomma non ci stava più dentro quindi una tragedia ora lei acquista solo strettamente quello che è necessario perché è rimasta scottata potevi fare un'altra cosa potevi prendere tutti quei prodotti li compri ma prima di comprarli avresti dovuto fare il calcolo di quanti ne potevi realmente vendere non nella tua testa dovevi andare a vedere quanti esattamente ne vendi all'anno a chi li vendi che frequenza hanno questi saloni quanto scusate salone clienti quanto normalmente spendono nel tuo salone e allora fai un conto più altri numeri della frequenza eccetera eccetera perché cosa vuol dire che se tu hai 100 clienti che spendono normalmente 100 euro e questi 100 clienti sono quelli che ti comprono lo shampoo e poi ne hai altri 400 che spendono 20 euro tu lo shampoo a quei 400 non glielo puoi vendere non glielo venderai mai non c'è operazione di marketing che ti permetta di raggiungere quei clienti che fanno fatica a darti 20 euro figurati se te ne danno 40 devi andare a lavorare sui clienti in cui non gli stai vendendo lo shampoo ma che stanno spendendo come quelli che normalmente ti comprono lo shampoo spero che sia stato chiaro li vedo un po' con gli occhi sbarrati così ragazzi mi date un feedback se vi torna la cosa vorrei rispondere ad Antonia intanto vorrei rispondere ad Antonia intanto per dirle che questo è purtroppo una cosa che negli anni è successa tante volte intanto dice che era un prodotto da cabina ma adesso te la faccio anche se era un servizio guarda ma io ti dico una cosa la storia che lei ha segnalato quella che è entrata alla finanza e l'hanno ribaltata è una situazione che indipendentemente che tu abbia avuto un non accettamento fiscale crea un danno mostruoso alla tua attività ovvero quella e negli anni passati era costume rifacevano il negozio e lo pagavano in prodotti contratti da 5 anni sconto 0 sull'acquisto merce dovevi vincolarti acquisto di top prodotti peccato che ti alzano il magazzino a dismisura e sapete qual è il secondo effetto di un magazzino a dismisura oltre alla carenza di liquidità oltre alla mancanza di soldi sul conto perché quella merce la devi pagare quello che vai completamente fuori a sbalzo ma a sbalzo proprio in modo incredibile vai fuori dalle statistiche di credibilità fiscale perché si presume che se tu hai così tanta merce è perché la usi per fare erogazione di servizi e se non hai il fatturato in linea con quella così tanta merce che hai in casa si presume che tu l'hai evaso il fatturato che tu lo hai occultato se aveste il tempo la voglia la cultura di andare a fare un giretto sul sito dell'agenzia delle entrate c'è tutta una sezione dedicata alla metodologia di accertamento fiscale alle attività di parrucchiere barbiere e assimilate e leggereste al suo interno come vengono perché l'agenzia lo dichiara nel documento come vengono considerati inattendibili cioè non credibili i magazzini troppo alti di merce praticamente se voi avete un magazzino di 20.000 euro e fatturate 20.000 euro c'è qualcosa che non va eh sì c'è qualcosa che non va adesso l'ho fatta proprio eh sì e purtroppo il gioco di fare il negozio pagandolo in merce cazzo ragazzi ma fatevi un finanziamento comprate la merce col vostro sconto perché il risultato sapete qual è che alla fine dell'anno se dovevate prendere 5.000 pezzi di 5.000 confezioni di prodotti tra colori conditioner shampoo e quant'altro chi più ne ha più ne metta finisce così via voi avete sempre 5.000 confezioni ma le avete pagate 20.000 anziché 30.000 nel conto della vostra attività quei prodotti sono entrati in quantità 5.000 pezzi per il valore di 20.000 non per il valore di 30 al valore di 30.000 si presume che facciate un certo volume di fatturato superiore rispetto a 20.000 di acquisto poi arrivano le porte in faccia ecco Antonio dice era un prodotto eh dove che scusami qua no era un prodotto da cabina non rivendibile mettiamo che sia un prodotto che tu devi usare per qualche motivo all'interno della cabina non so un liquido particolare che deve essere inserito nella macchina che quindi dà questa crema che può essere usata solo con un macchinario e quindi non puoi rivenderla a casa è la stessa cosa dovevi fare quante persone stanno usando quel trattamento in questo momento andare a vedere quanti ne avevi nel tuo gestionale guardare le persone simile che fino a quel momento non usavano il trattamento e non fidarti della campagna che avresti dovuto fare che l'azienda tu guardi i dati dici 100 sono le persone che in questo momento lo stanno usando sto comprando merce per 200 persone ho all'interno del mio salone oggi la possibilità di vendere a queste persone hanno le caratteristiche giuste per poter comprare quel tipo di servizio perché come detto prima se queste persone non corrispondono a queste caratteristiche tu fai una fatica immensa per vendergli quel servizio e allora ti devi rivolgere poi all online al marketing ricordati però che per andare a prendere un cliente nuovo ti costa molto di più che vendere una cosa a un tuo già cliente per quello che Tommaso adesso nei prossimi tempi farà questo corso su come aumentare la frequenza dei clienti in salone attraverso il suo gestionale attraverso i social attraverso una strategia cioè semplicemente portare i 100 clienti portare a farli venire invece che una volta farli venire una volta virgola 2 e quindi automaticamente aumentare il fatturato del 20% senza impattare sui costi del negozio perché se fate venire semplicemente una volta in più la persona non dovete pensare di fare delle cose strane comprare roba in più l'avete già comprata la strategia viene fatta in base a quello poi è chiaro che se dopo vi vengono il doppio delle persone dovete avere già previsto che c'è una persona in più perché se ci state dentro anche con il doppio delle persone avete un grosso problema in questo momento state praticamente spendendo il doppio di quello che serve quindi anche lì bisognerebbe andare a fare un'analisi di questo tipo il gestionale adesso ti vorrei dire una cosa è il mio prossimo acquisto e lo prenderò da voi deve essere l'acquisto del momento anche perché io ho 1200 euro ogni volta che vedo il gestionale sì perché lui costa 60 euro al mese lui me ne da 1200 60 euro al mese è corretto più o meno un prezzo dei tuoi gestionali tutto compreso così sappiamo versione cloud 59 euro al mese software assistenza e aggiornamenti ok poi ovviamente se il cliente ha apparati computer stampanti fiscali e di seguito si fanno delle offerte mirate allora il discorso è ragazzi indipendentemente che comprate se voi non avete la calcolatrice per fare i conti potete farli a mano quanto tempo ci mettete quanto tempo costa e cosa potete fare se li fate a mano e cosa potete fare se li fate con la calcolatrice non dovete pensare la calcolatrice costa 10 dovete pensare qual è il vostro problema se compro la calcolatrice e mi risolve questo problema ed entrano queste persone e la calcolatrice è costata 100 e me ne fa guadagnare 300 mi serve è meglio che la prenda o no perché se partite dal costo dovete partire dal problema qual è il vostro problema non entrano le persone in salone ok dov'è che volete investire sui nuovi clienti o fare tornare quelli che in questo momento o li avete persi oppure rientrano e non rientrano magari è è tutta la vita invece che fare 600 euro di campagna Facebook noi siamo su Facebook dovete farla in generale però piuttosto che spendere 600 euro in questa fase iniziale di campagna marketing su Facebook o di volantini con 600 euro su un gestionale vi permette di rientrare di quei 600 euro e moltiplicarli per 5 6 7 al mese perché lavorate sui vostri dati chiaro che se non avete i dati siete fregati dall'inizio cioè voi da domani mattina anche chi non ha un gestionale minimo minimo la mail e il telefono cellulare minimo poi vi spiegheremo perché questi due dati sono fondamentali io ti dico una cosa Romano non c'è soltanto quanti soldi in più puoi portare in negozio grazie alle attività che il gestionale ti permette di fare coltivando al meglio la tua clientela o anche facendo azioni per acquisirne di nuove di clientela perché si può fare anche questo con il nostro gestionale ma in realtà a questo unisci anche gli errori in meno che fai e i costi che questi errori generano dal più piccolo dal più piccolo all'errore più grosso che tu possa fare l'errore più grosso in assoluto che tu possa fare è avere un magazzino troppo carico non saper gestire bene il tuo portafoglio clienti perché non conosci bene le loro abitudini di spesa la loro frequenza e via di seguito e non sai gestire bene la proposta ad errori piccoli vuoi che ti faccia un esempio su errori piccoli rispondo a Giuseppe che dite non fate come le vendite 60 euro al mese per quanti mesi quanto costa per sempre tu paghi l'affitto del tuo salone quanto costa l'affitto del tuo salone 1000 euro al mese per quanto tempo per sempre o te lo compri nei prossimi 20 anni o c'hai i soldi che glielo metti lì subito che gli appoggi lì i tuoi 100-200 mila euro oppure lo metti nel costo per tenere in piedi l'attività il dipendente per quanto tempo lo devo tenere quanto costa ma se un dipendente dici quanto costa partiamo già male quanto mi fa guadagnare tu devi prendere qualcuno che ti risolva i problemi non che te li crei aspetta perché il gestionale te li risolve ma qualsiasi cosa ai sky a casa gli hai chiesto per quanti anni lo devi pagare è la stessa cosa noi continuiamo a offrirti l'utilizzo del software l'utilizzo del software in cloud che ti permette anche di andare di startene a casa e controllarti nel negozio fare statistiche fare marketing fare comunicazione analisi e quello che ti pare ti offriamo assistenza continuativa ti offriamo aggiornamenti il nostro software ce l'hai sempre aggiornato guarda parrucchierando non è che lo compri oggi telefono no iphone quanto costa il telefono di parrucchierando io so che costa mi sembra 45 euro di affitto al mese ok mi costa 45 euro d'affitto cosa faccio lo tolgo e poi chi è che lavora cioè tolgo il telefono il gestionale è peggio che il telefono perché per assurdo è peggio che il telefono siamo lì quindi non puoi non puoi considerarlo un costo ma lo devi considerare una risorsa che ti serve per poter fare impresa sono proprio le cose basilare quindi guarda poi dopo anche perché anche perché finisco comprarlo non avrebbe nessun senso tu compri una cosa che fra sei mesi diventa antica cambia il mondo cioè le strategie di facebook cioè fino a sei mesi fa tu con facebook non potevi andare a inserire i dati dell'offline cioè delle persone che avete lì cartacee o che hanno dato una cartolina e fagli vedere fuori delle cose direttamente solo esclusivamente senza che questa cosa compaia sulla vostra pagina cioè questa cosa non si poteva fare oggi si può fare fra sei mesi non lo so ci saranno i laggi laser che gli arrivano che lo svegliano nel letto cioè quindi comprare una cosa tecnologica oggi non ha nessun senso per un'azienda parlo per un'azienda poi per il tuo uso personale mi compro un computer 300 euro chi se me frega quello che deve fare lo fa e va bene non vado a impegnarmi in un noleggio poi tra l'altro l'azienda ha un noleggio perché non gli va in carico e alla fine lo scarica tutto fin quando la cosa funziona esempio abbiamo comprato un Mac in questi giorni 3200 euro ho fatto tutti i conti possibili mi conviene tutta la vita un noleggio pagandolo l'80% come da Apple alle imprese e alla fine dei due anni ne comprerò un altro ne affitterò un altro e così via però è la mia situazione sulla mia azienda magari voi avete un'altra esigenza però dovete fare quei calcoli lì pensa che noi i nostri clienti in formula di noleggio con 61 euro al mese questo per 48 mesi perché poi alla fine stiamo parlando di apparati che poi ti tieni nel nostro caso con 61 euro possiamo fornire un super computer touch la stampante fiscale della Epson che è il miglior prodotto che esiste sul mercato in termini di stampante scontrini elettronici e trasmissione telematica dei corrispettivi per chi non l'avesse il lettore codice a barre la formazione all'uso del software c'è una serie di cose comprese in questo pacchetto e costa 61 euro al mese per 48 mesi il software se invece hai già tutto o non vuoi mettere il misuratore fiscale perché ne hai già uno e vuoi batterti lo scontrino a mano a me sembra un'assurdità che tu faccia due operazioni ma se lo vuoi fare lo puoi fare e vuoi prendere solo il software mentre l'acquisto dell'apparato i hardware è 61 euro al mese per 48 mesi ed è tutto tuo paghi una rata mensile ti arriva la fattura ogni mese e la deduci al 100% al fine fiscale cioè quello che paghi scarichi ok il software è 59 euro al mese perché con 59 euro al mese noi ti diamo tutto poi ti diamo il software ti diamo l'uso del cloud cioè di usare il software ovunque tu ti trovi ti diamo gli aggiornamenti del software ti diamo assistenza tecnica è un servizio il servizio non si compra a meno che tu non dici faccio lavare la macchina me la lavano una volta finito poi me la tengo sporca quello è un servizio che hai comprato una volta sola ma un software gestionale è uno strumento che deve stare sempre con te sempre al tuo fianco è un servizio continuativo ecco poi ragazzi dovete anche pensare perché non è che lo stiamo nascondendo che se comprate un gestionale poi lo dovete usare quindi o lo usate voi o qualcuno lo deve usare perché se lo comprate e rimane lì e lo usate semplicemente per inserire il nome il cognome la mail il telefono e non scriverci nient'altro state usando una Ferrari per andare a fare la spesa allora sì hai ragione Giuseppe quanto costa perché costa 60 euro per metterci dentro le anagrafiche dei clienti e cazzo hai ragione se però lo usi in un altro modo e ti insegnano come usarlo funziona come adesso vedo Luana dice la marmana non ce l'ho la marmana citando Lele Canavero che è la marketing manager dovete prevedere che se la marmana non ce l'avete la marmana siete voi quindi o fate voi la roba o la fa qualcun altro tenendo presente che quando voi fate la marmana se lo fate negli orari del salone non potete fare un altro servizio se non potete fare un altro servizio state perdendo soldi all'inizio non è che salta domani tre dipendenti partite un pezzo alla volta però dovete già pensare che voi nell'arco di sei mesi un anno queste cose verranno automatizzate guarda ti dico ti dico un paio di cose la prima in assoluto tutte le piccole attività non hanno la marketing manager ok se la fanno da solo ma se lo devono fare se vogliono crescere se vogliono andare avanti perché sennò rimangono sempre lì dove sono anzi retrocedono perché andare restare sempre lì dove sei e non andare avanti il resto del mondo va avanti tu rimani sempre prendi sempre distanza ok non segui il passo dall'altra parte poi ti dico ok 59 euro al mese è vero ma quando lo inizi a utilizzare e infatti prossimamente ti inviterò quando ci sarà la possibilità una delle nostre dirette di farla non così ma di farla in un negozio da un mio cliente dove sarà lui a parlare e farà capire dove a fronte di 59 euro al mese Luana vi regala il negozio Luana passo dentro in un salone se ti sei iscritta in parrucchierando on the road ci diamo un'occhiata al salone dai e ti dico dove andare per metterlo a posto perché io non sono la persona però poi dopo quando te l'abbiamo portato a un certo livello non chiedercelo più indietro ce lo teniamo ecco ti dico vuoi il software qua vuoi le forbici così vuoi questo prodotto quell'altro cioè sulla mia esperienza queste qua sono le cose che offrono poi decidi tu in assoluta libertà però anche lì in corso di formazione dovete investire dovete un corso aziendale come gestire l'attività è importante ragazzi se non lo sapete stavo dicendo stavo dicendo mi piacerebbe fare una delle nostre prossime dirette in un salone di un mio cliente dove ti fa vedere a fronte di 59 euro al mese come gli ha cambiato la vita il gestionale quali maggiori incassi gli ha portato come gli ha fatto aumentare la fish media perché giusto stamattina ero al telefono con una cliente che il mercoledì apre a luna e questa mattina senza andare in negozio si è controllata tutte le schede dei clienti che verranno da qui a sabato si è fatta una serie di ha mandato una serie di comunicazioni sui cellulari dei clienti con promozioni ha mandato al commercialista i corrispettivi di giugno mandando una mail perché il software ce l'ha in cloud lo usava da casa sul suo mac senza dover andare in negozio ha fatto tutta una serie di lavori di pianificazione e ha preparato una serie di offerte tanto per i clienti che verranno in negozio nei prossimi giorni quanto per i clienti che non hanno un appuntamento per farli venire al più presto la sua fish media negli ultimi mesi attuando queste strategie guarda ne parlavamo proprio soltina ho i dati freschi in mente è passata da 51 a 74 euro fatevi dei conti pre-covid non facili adesso col covid tutti a fare il colore prima no no prima del covid intanto vada Tina ci tira le orecchie e poi dice ma non si lavora qui hai ragione perché stiamo un po' andando lunghi è un'oretta abbiamo detto dalle due alle tre magari in questo periodo riescono a seguirci a parte che i ragazzi potete noi come sempre lasciamo la diretta sulla pagina la mettiamo sul nostro canale youtube mettiamo anche una sintesi su instagram IGTV quindi potete trovare tutto il concetto è che se voi qualsiasi cosa comprate se non sapete utilizzarla dovete imparare a utilizzarla o se non la utilizzate proprio non fa da sola però se la utilizzate vi dà un grande risultato vi dà un grande soddisfazione faccio l'esempio delle forbici no sai forbici di Yuna un forbici premium non è che se compro le forbici divento un parrucchiere devo fare un corso per poterle utilizzare no però se faccio dei corsi di aggiornamento di taglio e poi li valorizzo con le forbici riesco a marginare molto di più magari lavoro anche meglio cioè non è che si risolvono se tu fai 200 passaggi cassa al mese e gestendo bene il tuo portafoglio clienti mi aumenti di 10 euro la fish tu stai facendo 2000 euro in più al mese come? grazie a uno strumento che ti è costato 59 1941 euro di guadagno secco grazie a 59 euro io se fossi un parrucchiere verrei da me e chiederei Tommaso me lo fai pagare 200 euro così anziché 2000 ne porta a casa 8000 in più al mese se questa è la proporzione Tommaso il nome del software beh lo tenete qua ragazzi imaginebeauty imaginebeauty punto it adesso non è che io lo devo dire perché devo parruccherando a un gestionale che gestisce queste cose noi non siamo un salone vedete voi cioè punto voi che avete un salone che fate tutto e trova qua cioè ancora di più proprio per marginare subito la cosa io sono 20 anni che mi occupo di gestione saloni a conciatura e centri estetici da 16 anni facciamo il nostro software puoi immaginare l'esperienza e che cosa c'è dentro per un salone da conciatura mirato modellato come un vestito su misura come un vestito su misura cioè ragazzi se qualcuno di voi nella vita si è mai fatto fare una giacca su misura sa esattamente che differenza c'è su una giacca comprata pre-confezionata e intanto guardate qua in anteprima cosa mi è arrivato di sorpresa il rap questo ragazzi è una delle primissime immagini della perché siamo in chiusura della macchina che sta per essere ricoperta hanno appoggiato la grafica poi chiaramente verrà scaldata e pellicolata proprio perché dire che non diciamo chiacchiere e questa qua è la seconda immagine ve la mando in anteprima assoluta ragazzi questo qua è la fiancata posteriore vedete che abbiamo Palux abbiamo appunto le forbici Caterfly c'è questa strada questi pezzi d'oro che partono sulla parte destra qua del phon si vede che sta venendo via il wrap e questa parte qua è già applicata sulla fiancata domani andiamo a ritirarla facciamo così vi ho fatto una spoilerata vi piace ragazzi guarda prima ho visto un commento che diceva Romano il ram non si vrappa da solo infatti il ram ma no non c'è problema ragazzi mettete appoggiate era il mio ufficio che te lo scriveva quando hai detto dei 1200 euro che mi chiedi ogni volta t'hanno scritto il ram non si vrappa da solo ragazzi volete vrappare la macchina appoggiate lì 2500 euro e loro ve la ricoprono quindi è e poi non è un costo con quei soldi lì dobbiamo rientrare di questi 2200 euro e abbiamo fatto un piano marketing con le aziende per poter rientrare di questi costi e dare comunque un servizio come voi per le vostre clienti cioè voi dovete rientrare del colore del taglio dei corsi del gestionare delle forbici del fond di tutto quanto quello che è ma dovete rendere felici dei clienti non dovete vendere basta cioè noi mettiamo la macchina così vi veniamo a trovare vi dobbiamo rendere felici perché voi siete felici le aziende saranno felici tutti contenti visibilità eccetera eccetera allora la cosa sta in piedi se non riusciamo a fare questo non sta in piedi cioè quindi non è questione di mettere i soldi o non mettere io i soldi li metto sulla macchina però deve marginare la macchina la compro ma non può essere un costo se no siamo felici siamo tutti mi hai fatto venire un momento una cosa parlando del Vrap che l'altra sera delle clienti stavamo facendo un corso e delle clienti mi hanno chiesto un consiglio perché gli hanno proposto un camion vela è presente il camion vela 850 euro più IVA una settimana 850 devo rifare l'offerta all'azienda che mi hanno comprato gli spazi 850 più IVA una settimana il camion vela il camion vela ragazzi sono quei camion che hanno la parte posteriore hanno il pannello lo parcheggiano da qualche parte e la gente lo vede questo è ok tu lo fai vedere per cercare di acquisire nuovi clienti perché il camion vela serve a questo ok tu lo sai tu lo sai che con 59 euro al mese un solo mese del mio software ti faccio fare molti ma molti ma molti più soldi con i clienti che hai rispetto a quanti ti può portare una settimana di camion vela 850 euro giusto per dare una proporzione giusto per dare una proporzione noi per vendere gli spazi sul ram abbiamo preso degli accordi con le aziende dove andiamo e facciamo non vendiamo ragazzi non vi vendiamo niente quando veniamo vi facciamo semplicemente vedere dei prodotti toccarli con mano e poi vi diamo dei contatti se voi siete interessati e vi regaliamo una serie di gadget con parruccherando on the road non vi vendiamo niente se viene qualcuno in questi giorni che sono di parruccherando on the road dovete comprare questo attenzione perché sono bufale non c'è non c'è questa cosa qua ragazzi l'unico che potete vedere sarò io con la mia faccia e il mio collaboratore che farà la camera oppure magari sono da solo dipende quando sarà quindi attenzione ti posso dare la mosca da portarti dietro ecco quindi è un'attività assolutamente per i saloni totalmente gratuita facciamo le interviste vi facciamo provare i prodotti vi diamo la possibilità magari di accedere sia delle promo di aziende a condizioni particolari che potete avere solo con parruccherando on the road però è questa l'attività e poi però fondamentalmente veniamo a farci due chiacchiere a far riconoscere il vostro salone cercandovi di darvi un po' di visibilità in più poi uno vuole fare altre cose non so parliamone però la scopo è quello costo zero per il parrucchiere tutta visibilità e male che vada si è preso anche due o tre gadget quasi sicuramente ha provato i prodotti non ha dovuto andare al Cosmo non ha dovuto chiamare l'azienda e poi fondamentalmente siamo noi potete ridarmi gli schiaffi che vi do diciamo in questo periodo spero in senso buono ragazzi in edizione giornaliera schiaffi in edizione giornaliera schiaffi quindi domani l'appuntamento alle nove siamo lì quindi penso che sarà una diretta nove e mezza dieci che faccio vedere la macchina tutti di sponsor chi c'è quindi poi mi date i feedback va bene dai siamo arrivati un po' lunghi perché volevo stare dentro un'ora come al solito non ce l'abbiamo fatta niente non ce l'abbiamo fatta l'appuntamento è sia per domani con Lele se vogliamo parlare di formazione in generale che è lui il super esperto ma stasera vi diamo una piccola chicca con abbiamo siamo riusciti a convincere Barbara Orsetti la ragazza che ha fatto queste pieghe particolari con con la piastra oddio vedi che lapsus che figura di merda con il cliente è l'età è l'età Golden Car Italia e vi farà vedere delle pieghe e stiamo organizzando appunto come ce l'hanno chiesto un corso anche con lei online che vi farà imparare tre quattro pieghe per marginare il servizio in salone rendere ancora più felici le vostre clienti e aumentare il vostro fatturato perché con quattro tocchi differenziare il cliente differenziare il salone è la cosa più importante quindi imparare cose nuove mettervi in un posizionamento diverso rispetto al concorrente in fondo alla via e dare un servizio che risolva il problema della cliente partite sempre dal problema che ha la cliente glielo risolvete ma glielo risolvete perché voi soltanto voi avete quella cosa che fa per lei avete quello strumento avete quella tecnologia avete quella conoscenza tecnica che il vostro salone così si posiziona nella sua mente in una certa maniera non dovete semplicemente compra questo perché perché sennò vado a comprarlo dove costa meno allora Luana ciao scappo al lavoro ci sarò perfetto Alessandro Bragnuolo il software deve essere una bella cosa ma se ma se non sono capace a gestire la pagina del salone se non sei capace a gestire la pagina del salone puoi anche farne a meno senta il gestionale non puoi farne a meno questa è la cattiva notizia detto che detto che il gestionale è molto ma molto ma molto più facile che gestire una pagina Facebook di un'attività ma molto più facile sì assolutamente quindi poi grazie al gestionale potete fare delle cose particolari sulla pagina cioè ma tu tu ti rendi conto il problema è che tutti i nostri amici hanno un cellulare hanno uno smartphone iphone piuttosto che sia sono qua su Facebook e vedi seguito seguito però il gestionale nel salone è difficile la differenza è che queste cose sono divertenti vi piace farle e allora le fate e non avete freni o blocchi il gestionale vi fa paura invece è una cosa che non vi deve far paura voi dovete aver paura non averlo un gestionale questa è la paura vera che dovreste che dovreste avere non averlo un gestionale deve farvi paura perché la vostra attività sta andando da sola dove sta andando e non la state guidando voi perché senza lo strumento giusto non si va da nessuna parte lo dico ogni volta vuoi andare a New York prendi l'aereo perché a piedi non ti basta una vita per arrivarci bravo allora ragazzi l'appuntamento è per stasera e per le prossime due sere ricordatevi per esempio e la voglio chiudere qua fate un corso imparate una tecnica tornate in salone accendete il vostro gestionale schiacciate un pulsante è il vostro gestionale manda 100 sms alle persone che già avevate targhettizzato perché il corso sapevate che andate a farlo il 20 di luglio sapete che queste persone sono affezionati alla piega che loro vogliono sempre qualcosa di più tornate in salone schiacciate il pulsante avete già scritto la frase il cellulare lo manda il corso quanto è costato 100 euro vi tornano indietro 4 clienti per dire che poi vi fate l'upselling vi fate il cross selling e tutto il resto avete pagato il gestionale e il corso per i prossimi 6 mesi soltanto con questo pulsantino ciao a tutti ci vediamo stasera ciao Romano ciao a tutti buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti